Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e come richiesto oggi si parlerà di come fare a trasportare sul proprio pc di casa dati mentre si è all'esterno e magari non so, vi si è riempita la memoria del telefono, dovete fare spazio perché dovete fare per forza delle foto, non avete chiavette, non avete il cavo OTG per passarle, non avete magari un account su qualche servizio cloud o comunque non volete metterle perché sono cavoli vostri, infatti io sconsiglio vivamente di mettere i cavoli vostri su Dropbots e compagnia cantante, oppure avete finito lo spazio su Dropbots e per questo se volete si può fare un video su come fare a fregare il servizio di inviti, cioè il programma di inviti di Dropbots per aumentarsi i giga sull'account. Non dovrei spiegarvelo, però ve lo spiego lo stesso perché sono tanto bravo dolce e carino, no scherzo, se vi interessa scrivetelo nei commenti. Allora, quindi come fare in questo caso? Ammettendo che non si ha un account su Dropbots non lo si vuole e avete dei dati personali da inviare a casa. Ci sono vari modi. Uno dei più comodi, ma sappiate non dei più sicuri, è se avete un router decente che vi permette di collegare una chiavetta USB oppure un hard disk e vi permette di farci girare sopra un server FTP. In questo caso il mio, cui lo vuole, TP-Link TDV8970 permette di farlo. Si va nelle impostazioni, si sceglie una porta, mi raccomando non lasciate la 21 nonostante vi dice di utilizzarla. Per quale motivo? Spesso e volentieri ci sono dei bot che scansionano la rete alla ricerca di IP con determinate porte aperte per poi dopo cercare di attaccarli per entrare. Di solito questi bot scansionano soltanto determinati set di porte di default che possono essere quella FTP, quella di SSH o qualsiasi altra cosa. Voi cambiatela ed è molto più difficile che vi beccate il bot che fa la scansione su tutte quante le porte. Ovviamente andatevi a mettere su una porta che non è inutilizzo da nessun altro servizio. A questo punto voi non dovete fare nient'altro che abilitarlo, scegliere una porta che più vi aggrada, fare molta attenzione che nel vostro router non ci sia abilitato l'accesso anonimo perché altrimenti può entrare chiunque senza mettere il nome, tento o password e soprattutto cambiate le credenziali d'accesso al router di default perché avere admin admin o admin password non è una bella cosa. Vi dico già che moltissimi router che vi danno in comodato d'uso Telecom, Fastweb o chiunque altro questa opzione non ce l'hanno. A meno che appunto come vi dicevo non hanno una porta USB in quel caso potete provare ad andare a vedere nella pagina di configurazione se questo c'è. Un'altra cosa molto comoda se si vuole utilizzare una cosa del genere e se uno ha un server FTP sul suo router di normal dovrebbe avere anche quest'altra impostazione perché altrimenti sarebbe inutile avercelo è il Dynamic DNS. Che cos'è il Dynamic DNS? Non so se molti di voi si ricordano i vecchi malware che si venivano utilizzati con la connessione in reverse con NoIP e roba varia ecco questo invece è un utilizzo molto più utile e meno lamero di utilizzare NoIP o comunque di DNS o qualsiasi altro servizio voi utilizzate che ovviamente però è utilizzabile dal vostro router. Ad esempio io posso utilizzare sul mio router di DNS oppure NoIP vi registrate, vi create un account, inserite qua il nome del dominio il nome tenta, la password, date, abilità, login e a quel punto il router penserà da solo ogni volta che cambia IP ad informare il DNS dinamico che in questo caso dominio.servizio.org corrisponde all'IP che avete in quel determinato momento. Cosa succede se non avete questa opzione sul vostro router? O vi segnate l'IP del vostro PC prima di uscire di casa e sperate veramente che non si riavvii il router o che non cada la connessione e quindi cambi IP e quindi non potete più connettervi oppure utilizzate gli applicativi che vi mettono a disposizione NoIP o DIN DNS. Questi applicativi l'unica falla, cioè falla, l'unico problema che hanno è che devono girare su una macchina che è sempre accesa o comunque che è accesa nel momento in cui vi serve raggiungere dall'esterno il vostro PC. Perché? Perché in caso l'IP dovesse cambiare ci penserà l'applicativo appena si accorge di questo cambio IP ad aggiornare il vostro DNS dinamico, ok? Pecca assurda di questo tipo di utilizzo del server FTP da router. FTP è notoriamente insicuro perché trasmette le credenziali o comunque anche i dati che passano sulla rete in chiaro. Quindi anche se io lo utilizzo per determinate cose e qui mi ci sono connesso tramite FileZilla la versione sicura che cifra file di configurazione. Se utilizzate FileZilla di solito cercate FileZilla Secure che è una figata assurda in questo caso io posso connettermi in tutta sicurezza se sono in rete locale. Se mi connetto dall'esterno e qualcuno stesse facendo mine in the middle ovvero si mette a guardare i pacchetti che invio e ricevo potrebbe prendere il nome utente password del mio server FTP e entrare e fare brutte cose. A questo punto se c'è dentro roba personale che cosa succede? Succede che tutta quanta questa roba qua se la potrebbe fregare senza alcun problema. Quindi a questo punto che cosa si può fare? Prima si spiega un altro tipo, un altro modo in cui una persona può avere un server FTP se non ha l'opzione sul router. Ovviamente dovrà tenere la propria macchina accesa che sia Linux o Windows, che sia un Raspberry oppure no e si potrebbe tranquillamente andare ad installare ad esempio FileZilla. FileZilla Server Questo qui non è nient'altro che un server FTP che gira su una macchina e fa la stessa identica cosa che farebbe il vostro router. Ora, anche in questo caso, la connessione non sarà sicura. Mi spiace per la voce bassa ma mi sa che mi sto beccando mal di gola oltre che il raffreddore. E quindi cosa potete fare? Voi potete tranquillamente installare il vostro bellissimo FileZilla ve lo configurate come meglio preferite sulle porte che meglio preferite però rimane appunto sempre la rogna, la fregatura del fatto che la connessione non è sicura. Sto morendo Ok Perché oggi non vi spiegherò come utilizzare FileZilla Server? Per il semplice fatto che io sono più una persona che preferisce andare sul sicuro. Quindi ora vediamo le differenze tra FTP nonostante esiste anche FTPS che utilizza SSL e TLS per la connessione per lo scambio dei dati, tutto quello che vi pare però è leggermente più casino da installare di quello che stiamo per fare noi in questo momento appunto vediamo le differenze tra FTP e SFTP FTP è come vi dicevo una connessione tra il vostro PC o il vostro cellulare al vostro server o il vostro PC che passa come dicevamo in chiaro SFTP invece fa utilizzo di un tunnel SSH per appunto avere una trasmissione di dati sicura praticamente come funziona detto veramente al modo più spartano possibile viene aperta una sessione SSH tra la vostra macchina e la macchina di destinazione e poi lì all'interno parte un FTP speciale che appunto è SFTP che utilizza questo tunnel per lo scambio di dati in questo modo tutto quanto quello che passa non è minimamente visionabile da terzi a meno che non fate determinati attacchi però vi direte che vi cambia la chiave SSH capite che c'è qualcosa che non va perché se voi non l'avete cambiata e il programma gli avvisa guarda che è cambiata qualcosa non va in ogni caso nessuno si mette a fare una roba del genere se siete ad esempio attaccati al wifi non so del McDonald's o del comune o di qualsiasi altra cosa di cui appunto non potete fidarvi utilizzare SFTP ad esempio è una buona cosa ora a questo punto vi chiederete come utilizziamo SFTP in questo caso su Windows perché tutta quanta questa bellissima guida la stiamo facendo su Windows per il semplice fatto che Windows purtroppo è un dito al culo per fare ogni minima singola stronzata che su Linux sarebbe da fare in due click quindi procediamo ah sappiate anche che ho un disco nuovo da 500 giga su cui metterò finalmente la mia bellissima installazione fissa Linux e si potrà cominciare a fare qualcosa anche lì di magari più carino se può interessare sto facendo più che altro Windows perché molti di voi utilizzano Windows e niente quindi a questo punto torniamo a noi e come fare ad avere un server SFTP su Windows molto semplicemente ci sono varie opzioni varie per modi di dire perché alla fine quella credo più sicura è solo una una è FreeSSHD problema di questo software io lo utilizzavo fino a qualche anno fa oggi vado a rivedere e a quanto pare è rimasto a qualche anno fa è sempre un qualcosa che sta fermo dal 2000 e 10 si dal 2010 tipo quindi sinceramente non è che mi fido molto ad usare una roba di 7 anni fa quindi diciamo che questo qua lo mettiamo da parte anche perché avevano già corretto una vulnerabilità nel 2013 ok con la 1.0 12 e siamo alla 1.3.1 ok va bene può darsi che sia aggiornato però sinceramente io mi vedo il forum fermo qui non ci sono date per quanto riguarda gli aggiornamenti però a Bavaria capitemi che se poi anche il forum è fermo la sezione notizia è fermo 2013 mi fido un po' poco era molto comodo perché c'era l'interfaccia grafica erano due click lo potevate tranquillamente installare come servizio non avevate rotture di coglioni però appunto come vi dicevo non me la sento di consigliarlo in questo caso cercando perché in questi giorni mi serviva mi sono imbattuto in una versione di Open di Open SSH per Windows installabile tranquillamente con PowerShell si imposta come servizio e compagna cantante unico problema e premessa è scritto grosso come la casa è una pre-release non è pronta per per la produzione per essere utilizzata in produzione ovvero non è pronta per avere per essere utilizzata tutti i giorni come si deve compagna cantante però funziona da dio quindi io la utilizzo lo stesso e me ne frego altamente oltretutto sto vedendo che è molto 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 aggiornata il titolo sta andando avanti a cannone sta facendo una marea e mezza di fits mi ero reso conto di un po' di bug che erano già nella lista in questa versione in questo caso sono già stati corretti e di fatti l'ho scaricata e vedremo ora come installare appunto open ssh su windows e poi a questo punto poter utilizzare anche sftp perché sto facendo installare questo perché mi era stato chiesto anche in un altro video come fare un tunnel ssh ma quello ve lo spiegherò quando se vi interessa parleremo di vnc e del perché non ha molto senso utilizzarlo senza un tunnel non dico altro se vi interessa ditelo nei commenti quindi torniamo a noi come facciamo per avere il nostro bellissimo server ssh o sftp su windows visto che questo determinato progettino qua è aperto da poco e non mi sono messo a vederlo più di tanto ho provato a vedermi la guida che danno su winscp che è veramente veramente completa per quanto mi riguarda non dovete fare nient'altro che andare vi lascio anche la guida in descrizione sulla pagina di open ssh per windows vi scaricate il pacchetto a 32 64 bit ve lo dicomprimete dove volete e vi ritrovate con questo in mano in questo caso è stato fatto cioè vi dice di metterlo all'interno di c open ssh in modo da averlo lì dentro anche per le configurazioni che dopo andremo a fare che sono due quindi due ragazzi due non dovete fare chissà che cosa una volta che siete qua all'interno io non lo faccio in questa cartella perché ho già le mie chiavi generate non vi dice nient'altro che eseguire questo comando ovvero dite ssh che già di generarvi le chiavi ora io lo faccio nella cartella che dopo andrò a eliminare perché tanto l'ho già fatto quindi tenete premuto shift tasto resta su spazio bianco apri finestra di comando qui a questo punto fate ssh cajun che palle che non mi fa la prima lettera meno a invio vi ha generato le chiavi che dopo vi serviranno appunto per connettervi al vostro server a questo punto quello che io consiglio di fare prima di fare l'installazione di tutto è aprire il file di configurazione che si chiama sshdconfig e una volta che avete aperto questo cambiare due cosette primo la porta mettete la porta che volete voi che può essere 2245 ricordate che dopo andrà forwardata nel vostro router quindi andrà aperta all'esterno scegliere quale tipo di protocollo utilizzare potete dirgli di utilizzare soltanto il protocollo 2 ad esempio poi scendendo potete andare a cercare appena lo trovo il nostro server sftp eccolo qua subsystem sftp sftp noi vi ricordate dove l'abbiamo messo l'abbiamo messo in c open ssh open ssh sftp server salvate il file di configurazione e siete a posto ok a questo punto io vado avanti ad aggiornare il mio server da qua perché va disinstallato e resta allato da capo per fare tutto quindi adesso in questo momento possiamo copiare questo comando che non fa nient'altro che è utilizzare powershell per installare sshd su windows ecca la e morro mi scrive gg a posto allora torniamo sul nostro c open ssh tasto destro come prima esegui apri finestra di comando qui incogliamo questo comando non fa nient'altro che eseguire appunto powershell vai passando le policy di esecuzione che spaccano soltanto le balle e vi installa appunto il servizio di open ssh fammi mutare il telefono questo video sta venendo uno schifo chi se ne frega non ci vuole di rifarlo da capo diamo un bellissimo invio perché queste cose ok perfetto niente qua mi sta dando degli errori perché esistevano già delle cartelle per quanto riguarda i log eccetera eccetera chi se ne frega il servizio di ssh è stato installato a voi questo errore teoricamente non dovrebbe darvelo lo da a me perché sto semplicemente aggiornando l'installazione già fatta ok a questo punto ci sono altre cosine che si possono fare ovvero fare le autenticazioni con le chiavi pubbliche e compagnia va è bella a noi questo sinceramente non ce ne frega un cazzo detto proprio chiaramente però quello che ci interessa di fare è aprire la porta sul firewall di windows purtroppo questo ho provato a vedere e lo dice anche funziona tanto su windows 8 2012 o più nuovi oltre a questo su windows 7 no quindi in questo caso cosa si deve fare si cerca si cerca firewall e si apre a questo punto non dobbiamo fare nient'altro che regole di connessione in entrata creare una nuova regola e dire porta avanti la porta quella che noi volevamo utilizzare quindi quella che abbiamo impostato nel nostro file di configurazione che era non ve lo ricordo più era 2250 tiro a caso andate avanti consenti la connessione andate avanti gli date un nome e date ok a questo punto avete dato il permesso a ssh di ricevere connessioni dall'esterno perfetto cosa vi manca a questo punto vi manca di far avviare il servizio di ssh all'avvio di windows quindi cercate servizi e a questo punto andate a cercare la s sshd eccolo qui tasto destro proprietà nulla gente sshd se non ricordo male dovrebbe essere sshd non l'agent l'agent partirà in automatico quindi tasto destro proprietà tipo di avvio automatico ok ora lo avviamo applica ok a questo punto abbiamo il nostro server ssh che gira tranquillamente sulla macchina proviamo a vedere se funziona apriamo in questo caso putty e io sono un pirla perché adesso vedrete la porta su cui mi gira ssh no perché adesso io sposto va bene ok vi dico semplicemente cosa dovete fare poi per potervi connettere mettete l'ip della vostra macchina in questo caso metto la localhost qua mettete la porta e poi date open io adesso sposto giusto per non farvi vedere la porta si vabbè uno può fare un po' scan però prima dovrebbe avere il mio ip però io in ogni caso sono paranoico non lo faccio ok ecco qua prima vi chiederà se volete accettare la chiave per qualche motivo probabilmente nonostante tenuto le stesse chiavi vaca la minchia bo vai a capire come mai spaccava le balle vabbè comunque a questo punto dobbiamo accedere al nostro account di windows perché se noi mettiamo niente accesso negato ok quindi come fate ad entrare dovete utilizzare il vostro account di windows adesso ragazzi un attimo che mi riconnetto ovviamente se vi state connettendo dall'esterno non mettete 127.001 mettete o l'ip oppure ddns oppure no ip che vi siete registrati allora entriamo e mettiamo la pass che se mi devo ricordare oh eccolo qua perfetto e ssh funziona siamo all'interno della nostra macchina e a questo punto abbiamo un bellissimo ssh inutile perché windows fa schifo e windows non fa un cazzo da terminare se non poche cose possiamo vedere pochissime cose tipo la lista del proce che cazzo sta succedendo ok ah ok ho scritto male io sono scemo la lista dei processi bla 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 e tutte quante le varie menate cose totalmente inutili perché windows fa cagare però a questo punto noi abbiamo un'altra cosa molto più bella ovvero abbiamo finalmente il nostro server sftp che sta girando quindi ora facciamo un tentativo di connessione attraverso ad esempio sftp quindi ora ci connettiamo facciamo come prima 127.0.0.1 la porta che dopo andrà messa l'unitente password e poi accedi mannaggia a me con le passe con le passe lunghe ok a questo punto abbiamo come potete vedere un server sftp che funziona questa è la macchina su cui state lavorando quindi se voi foste fuori casa questa qua sarebbe la vostra macchina a casa ok a questo punto non dovete fare nient'altro che trascinare di qua i file per spostarli trascinare di qua per copiarli e se siete fuori casa utilizzare un'applicazione come androidftp vi mettete l'ip il nome la password qui nel tipo specificate sftp la porta e a questo punto potete passarvi tutti quanti i file che volete tra voi e la macchina remota un altro modo che si potrebbe utilizzare per evitare di fare tutto quanto questo bordello è l'utilizzo di uncloud che è un servizio come come dropbox però privato da mettere o il locale sulla vostra macchina tenendo sempre conto della limitazione dell'upload e del download che avete come anche in questo caso con sftp o ftp oppure potete sempre comunque tenere conto di metterlo su un vostro server se avete già un server ad esempio e avrete in poche parole il vostro dropbox privato niente di che e fine spero che non sia venuta una merda che abbiate capito più o meno come funziona il tutto e fatemi sapere nei commenti se volete qualcosa di magari ancora più specifico di questo ok quello che manca è l'utilizzo appunto del server sftp da cellulare ora fate a finta che io sono fuori casa devo caricare questa foto o più foto selezionandone più di una e la devo inviare a casa per poi cancellarla sul telefono non faccio nient'altro che condividi scegliere l'applicazione per la sftp scelgo su quale server caricare tutto ok caricato ora noi abbiamo sul nostro serverino ok caricato quello che noi volevamo caricare fine ciao 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 ciao